Gli esperti di Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di imprese, hanno partecipato a Paola ad un workshop informativo sugli incentivi disponibili per i giovani che intendono avviare un'attività imprenditoriale in Calabria. L'iniziativa è di Territorio Solidale, il centro laboratoriale coordinato da Luca Mannarino e gode del sostegno dell'amministrazione comunale. Articolata la relazione offerta da Massimo Calzoni, il funzionario di Invitalia ha chiarito ogni aspetto tecnico e normativo relativo alle modalità di avvio di nuove start-up e dall'accesso ai finanziamenti, mentre contemporaneamente in un altro spazio messo a disposizione da Territorio Solidale, altri esperti dell'Agenzia hanno singolarmente ricevuto gli aspiranti imprenditori per una consulenza personalizzata. La nostra mission è questa, fare gli aggregatori, fare quelli che fanno incontrare la domanda e l'offerta. La domanda di impresa, ce n'è tanta, con i soggetti deputati a soddisfarla, in questo caso Invitalia con una misura molto importante. Nuova impresa a tasso zero, una misura poco conosciuta ma che ha delle ottime caratteristiche tecniche. C'è una grande partecipazione. Raccogliamo le idee veramente sul territorio. Abbiamo già in cantiere il 20 di aprile un incontro con Banca Prossima, che è la banca destinata al mondo no profit.